Lo sport è fondamentale nella vita dei bambini, lo diceva già Maria Montessori, il movimento consapevole aiuta lo sviluppo fisico e psichico dei bambini e questo per noi è fondamentale. Matera Sport Academy come noi pensa che lo sport sia importante per far crescere il bambino con il movimento consapevole, quindi il bambino che scopre lo spazio intorno a sé, scopre la propria corporeità e con la scoperta anche delle regole del gioco, quindi col fair play, scopre anche il rispetto di sé e degli altri. Quindi possiamo toccare i vari campi di esperienza previsti anche dalle indicazioni nazionali che sono appunto la scoperta di sé, la scoperta del mondo e anche educazione alla cittadinanza. Ci si avverrà di professionisti del settore e chiaramente è prevista anche la collaborazione dei docenti. Le docenti sono delle persone fantastiche dell'istituto, dell'istituto comprensivo e della scuola Rodari e hanno subito accolto questo progetto, lo hanno fatto loro e se ne stanno facendo veramente promotrici. È un modo per promuovere sicuramente l'attività sportiva già nelle prime fasce d'età e insieme a tutto lo staff della Matera Sport Academy abbiamo preparato un protocollo, un percorso dove i bambini appunto si cimenteranno un'ora alla settimana insieme alle insegnanti proprio per scoprire quelli che sono i vari schemi motori di base attraverso appunto una forma ludica.